Ciao a tutti ragazzi, sono Scilbi e bentornati sul mio canale Ho tre bei puntarelli, oggi 4-1 contro il Palma Certo, potrà finire pure 4-0 senza subir i reti, però vabbè Patrick, se non fa una gretinata partita, non è contento quindi, ok? Comunque partita dominata, casualità siamo riusciti a segnare Pure abbastanza, perché di solito tiriamo, tiriamo a sta palla Non entra mai, invece, fine primo tempo stavamo 4-0 Io dico, comunque, questa finisce 12-1, invece no, alla fine niente Però comunque, comunque, ne ho me posto la metà anche perché Poi magari non volevano stancarsi troppo, giocano un po' così Sai, come quando si gioca 4-0 stella, te passi palla, fa un po' così Colapo e Patrick, infatti, ha fatto pure una gretinata, vabbè Però alla fine, alla partita ha pure giocato bene, quindi non è che mi metto a dire niente Luis Alberto, migliore in campo oggi, mamma mia che partita Luis Milinko, in un certo punto ha fatto una giocata di quelle Mamma mia, che giocatore ragazzi, che giocatore So contenta perché oggi non c'era immobile, non si è sentita la mancanza di immobile Che hai sentito ragazzi, è un cretino Cioè, io non capisco, ha dato un cazzotto, uno schiaffo, non lo so, a uno del Parma Nell'area di rigore, ma tu sei fuori di capoccia Io pensavo fosse rosso, non gli ha dato manco giallo, vabbè Ok Poi secondo me al primo tempo c'era pure un fallo tirato su inglese Nell'area di rigore loro Che poi, anzi, l'arbitro ha fischiato fallo di inglese su stracoscia Quindi, vabbè, comunque, regà, oggi, cioè, hanno segnato Marusic e Lulic Cioè, infatti io speravo, dico, no, adesso se hanno segnato sti due devi segnare Patrick Per forza, invece no, Patrick ha fatto una gredinata perché se no non andava bene Comunque, regà, oh, tre punti Siamo riusciti a prendere un sacco di punti Abbiamo preso tre punti sulla Roma Abbiamo preso due punti sull'Atalanta Tre punti sul Torino Tre punti sulla Juve, olè Comunque stasera il derby Vabbè, ovvio, in pareggio è sempre meglio per tutti Cioè, per tutti Per me Però Secondo me, se devo scegliere Dovessi scegliere chi delle due deve vincere A sto punto famo vincere Milan L'Inter è Devevo calare in depressione Rosario, mi dispiace pure che c'è sta sta pausa Perché noi stiamo a giocare bene L'Inter sta a mezza in crisi Certo, se mo vince il derby si risveglia un attimo Però ammetti che perde il derby Sta pausa non ci voleva Quindi, vabbè, stasera si gufa Un pareggio Cerchiamo sto pareggio E poi alla prossima Tra due settimane toccano a Milano E vabbè E là, là tocca giocarsela Come è stata giocata la Coppa Italia Quindi, niente, raga Fatemi sapere se magari volete Dato che sicuramente il derby me lo vedo stasera Se volete un po' spartire il derby Scrivetemi un po' sotto nei commenti Noi ci vediamo Non tra due settimane Perché, cioè Farò qualche altro video nel mezzo Mi inventerò qualcosa E ci vediamo al prossimo video Mettete un mi piace Lasciate un commento Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto Bella, raga, forza Lazio